Buonasera benvenuti all'appuntamento con l'informazione di Telestense parleremo del caro bollette ma anche del caro prezzi perché a Ferrara si registra il prezzo più alto come città per quanto concerne il pane vedremo il perché naturalmente risvolti legati anche alla guerra in Ucraina dove si continua purtroppo a morire sotto le bombe russe la città si organizza per l'accoglienza dei profughi poi parleremo naturalmente della pandemia il covid insomma ancora contagi però nessun decesso e la pressione ospedaliera resta sotto controllo tra l'altro dalla mezzanotte appunto l'Emilia Romagna ritornerà in fascia bianca e poi andremo a cento per scoprire quali sono i fondi appunto che il comune ha chiesto per i fondi appunto del PNRR vedremo i progetti poi naturalmente la cultura e per quanto concerne la SPAL sentiremo i commenti nel dopo partita per la bruciante sconfitta all'ultimo minuto in casa contro Lascoli però apriamo subito con il caro bollette perché vola il prezzo del pane record proprio a Ferrara dove il pane il pane è stato venduto fino a 9 euro e 80 centesimi al chilo a dirlo è un'indagine di asso utenti l'associazione nazionale utenti servizi pubblici per la pasta invece è Cagliari la città più cara e con il conflitto Ucraina Russia i possibili effetti sui listini tra più 15 fino al 30 per cento vediamo il caro bollette fa impennare i prezzi di prodotti di largo consumo come pane e pasta beni che nei prossimi giorni potrebbero risentire del conflitto scoppiato in Ucraina e dei forti incrementi nelle quotazioni delle materie prime a sottolinearlo e asso utenti l'associazione nazionale utenti servizi pubblici che tutela e promuove i diritti fondamentali dei consumatori in particolare degli utenti dei servizi pubblici l'associazione ha messo a confronto i listini di pane e pasta nelle principali città italiane per capire come i rincari di luce gas scattati lo scorso gennaio abbiano influito sui prezzi al dettaglio ed è proprio la città di Ferrara a raggiungere il record del prezzo del pane che in base alle ultime rivelazioni del mese raggiunge il livello più elevato un chilo di pane fresco realizzato con farina di grano costa fino a 9 euro e 80 centesimi quotazione massima mentre il prezzo medio si attesta a 5 euro e 31 centesimi al chilo al secondo posto si piazza ancora una città dell'emilia romagna a forlì dove il prezzo massimo del pane fresco è di 9 euro al chilo contro i 4 euro e 37 centesimi di prezzo medio carissima anche venezia dove un chilo di pane fresco è venduto in media a 5 euro e 52 centesimi mentre è di 8 euro e 5 centesimi la quotazione massima i listini superano i 6 euro al chilo in numerosi città da milano a bari passando per ancona macerata bologna bolzano modena reggio emilia trento e udine le province più economiche risultano essere napoli con 2 euro al chilo il prezzo massimo e cosenza con 2 euro e 50 e benevento con 2 euro e 65 sul fronte della pasta di semola di grano duro cagliari è la città più cara d'italia con i prezzi massimi che raggiungono il record di 4 euro e 70 centesimi al chilogrammo contro 1 euro e 95 centesimi di prezzo medio seguita da sassari con i suoi 3 euro e 35 centesimi il prezzo massimo della pasta supera i 3 euro al chilogrammo in altre 7 città bergamo brescia genova grossetto macerata perugia pescara i listini più bassi si registrano a messina dove il prezzo massimo è di 1 euro e 86 centesimi contro un prezzo medio di 1 euro e 21 centesimi sui listini di prodotti come pane e pasta pende oggi la spada di damocle della guerra in ucraina che ha fatto impennare le quotazioni internazionali non solo del grano ma anche del gas e del petrolio voci che incidono sui costi di produzione e quindi sui prezzi finali al pubblico avverte assoutenti per questo motivo esiste il rischio concreto di nuovi rialzi dei prezzi compresi tra il 15 e il 30 per cento in più per una moltitudine di prodotti di largo consumo dalla pasta ai dolci passando per il pane i crackers e i biscotti proprio per protestare contro l'insostenibile situazione in atto assoutenti insieme ad altre associazioni dei consumatori ha indetto per il prossimo 15 marzo uno sciopero dei consumi di luce gas che ha l'obiettivo di boicottare il gas russo importato in italia invitando le famiglie a ridurre il più possibile l'utilizzo di energia e dare il proprio contributo concreto alle sanzioni verso la russia mentre mosca annuncia di volere riprendere i negoziati a gerusalemme con i rappresentanti della repubblica dell'ucraina oggi bombardamenti russi hanno fatto strage di cittadini ad ovest tra leopoli al confine con la polonia irpin dove stava riprendendo con la sua telecamera e cittadino in fuga è stato ucciso anche un giornalista americano in italia le istituzioni sanitarie coordinate dalle prefetture organizzano i servizi in primo luogo sanitari per l'accoglienza vediamo a 18 giorni dall'inizio dell'inversione russa dell'ucraina i bombardamenti russi non danno tregua alla popolazione che anche ad ovest fra leopoli il confine polacco è diventata bersaglio delle bombe rosse continua intanto la fuga soprattutto di donne e bambini verso gli stati confinanti ai paesi dell'unione europea l'italia ha accolto già migliaia di profughi secondo l'alto commissariato delle nazioni unite per i rifugiati che lo scrive sul suo sito internet dedicato alla guerra sono 100.733 i rifugiati in più rispetto a ieri e in totale sono già 2.698.280 le persone che hanno lasciato in modo drammatico l'ucraina dall'inizio dell'invasione il capo della diplomazia europea gioseporel ha lanciato oggi una dura protesta nei confronti del rapimento di due sindaci delle città ucraine di meritopole e nipro rudne a ferrara dicevamo sono già più di 700 gli ucraine arrivati in fuga dal loro paese ma non manca neppure chi lascia la nostra città per unirsi ai propri familiari come è accaduto due giorni fa quando una mamma con il suo bambino è salita su un pullman diretto con il suo carico di aiuto umanitario verso i campi profughi del confine polacco dove ormai sono stati ospitati più di 2 milioni e mezzo di ucraini nei giorni scorsi la prefettura ha coordinato gli sforzi dell'azienda sanitaria di ferrara la questura volte ad offrire in un unico contesto i servizi di rispettiva competenza a favore dei profughi ucraini arrivati in provincia l'organizzazione prevede l'attivazione a partire dal lunedì 14 marzo di un punto di assistenza unico presso il centro di ferrara fiera in via della fiera numero 11 presso il quale saranno assicurati con l'ausilio di mediatori culturali interpreti e una modulistica bilingue i servizi sanitari necessari tra cui tamponi vaccinazioni anti covid somministrazione degli atti sia obbligatorie per adulti e bambini è previsto anche uno sportello dell'acquistura aperto dal lunedì al sabato alle 8.30 alle 13.30 per le dichiarazioni di presenza in italia e le informazioni sul rilascio del permesso di soggiorno per protezione temporanea dal centro sociale e vanagarden continuano a partire pullman che arrivano in città semivuoti da altre città dirette al confine con l'ucraina quelli che vedete sono partiti l'8 il 9 e l'11 marzo questa mattina sulla 14 si è ribaltato un bus con a bordo ucraini morta una donna in mezzo aveva una targa proprio ucraina che risulta essere proprio partito il pullman direttamente dal paese in guerra e la destinazione era quella di pescara vediamo è una donna la vittima dell'incidente avvenuto questa mattina poco prima delle 6.45 sull'autostrada 14 nel tratto compreso tra cesena e valle del rubicone in direzione ancona all'altezza del chilometro 101 che ha visto ribaltarsi un pullman che trasportava cittadini ucraini in base alle prime informazioni nessuno degli altri passeggeri si sarebbe ferito gravemente il mezzo aveva targa ucraina e risultava essere partito direttamente dal paese in guerra ed era diretto a pescara dopo il ribaltamento per cause ancora ad accertare alcuni passeggeri sono stati in grado di uscire da soli dal mezzo prima dell'arrivo dei soccorsi la vittima era rimasta incastrata nelle lamiere alcuni passeggeri sono stati trasportati in ospedale per accertamenti altri hanno chiamato dei conoscenti e si sono fatti venire a prendere sul luogo dell'incidente mentre in 15 che non avevano mezzi propri sono stati trasportati presso la sede della polizia stradale di fordì per l'identificazione e da lì potranno riprendere il loro viaggio nel tratto interessato dall'incidente mortale si è transitato nei primi momenti sulla corsia di sorpasso e non si sono registrati problemi al traffico i vigili del fuoco sono intervenuti con due autogru per sollevare il mezzo e rimuoverlo torniamo a ferrara o meglio cambiamo argomento parliamo anche di ferrara perché da domani lunedì 14 marzo ferrara l'emilia romagna tornano in zona bianca il passaggio nella fascia rischio minore avverrà praticamente a mezzanotte un passaggio che è stato deciso sulla base dei dati settimanali validati dal ministero della salute che indicano la regione con l'rt sotto l'uno e l'occupazione dei posti letto nei reparti ospedalieri sotto la soglia limite cioè il 10% nelle terapie intensive e 15% nei reparti covid ordinari e proprio questo l'aggiornamento del bollettino per quanto riguarda l'emilia romagna e ferrara perché in emilia romagna sono 2725 nuovi casi di positività al covid di questi 217 sono quelli registrati nel ferrarese stabile la pressione sugli ospedali i pazienti ricoverati nelle terapie intensive degli ospedali appunto della regione sono 57 uno di questi si trova ricoverato in terapia intensiva a cona mentre negli altri ricoveri negli altri reparti appunto covid degli ospedali della regione ci sono 1049 persone ricoverate nella giornata di ieri si sono registrati 5 decessi di persone di età compresa tra i 69 e i 94 anni ma nessuno di questi in provincia di ferrara sul fronte della campagna vaccinale nel primo pomeriggio di oggi le persone oltre i 12 anni che avevano completato il ciclo vaccinale erano tre oltre 3.700.063 oltre il 93,7 per cento mentre le terze dosi somministrate sono 2.695.567 torniamo a parlare dei rincari che abbiamo sentito insomma c'è anche un po' di preoccupazione per quanto riguarda il turismo insomma e qualche giorno fa una cooperativa di bagnini del riminese ha pronunciato possibili forti rincari per la prossima estate in seguito a forti aumenti appunto di tutto il settore energetico e delle materie prime l'imprenditore balneare cristian re neri però anche rassicurato nel corso dell'ultima puntata di match del giovedì dicendo che i rincari saranno però calmerati vediamo insieme questo passaggio abbiamo sentito che alcuni tuoi colleghi di rimini l'hanno sparata tra virgolette ma insomma capisco le difficoltà i problemi dicendo che ci potremmo trovare dei rincari del 30 40 per cento è una sparata oppure realtà quello che stanno dicendo allora è una sparata allora innanzitutto uno dei dei personaggi storici dei bagnini di del riminese ha parlato realmente di 30 40 per cento di aumento per le attrezzature dei bagnini quindi proprio l'acquisto delle attrezzature quello ci sta ma non non ha niente a che vedere con gli aumenti che ci saranno perché qualche aumento ci sarà quello è sicuro ma sarà più o meno in linea con quelli degli anni passati quindi parliamo ancora di un turismo molto abbordabile un ombrellone due lettini chiaramente non nelle prime file ma ancora viaggerà tra i 15 e i 20 euro ecco abbiamo riunioni anche nei prossimi giorni con i miei colleghi diciamo che saremo in linea con gli anni passati non credo proprio che andremo a far pagare al cliente delle cifre assurde che non stanno né in cielo né in terra insomma assolutamente la tua zona è frequentata da russi che cosa prevedete da questo punto di vista se cambierà qualcosa se eventualmente quindi avrete ripercussioni di quello che sta avvenendo soprattutto dall'estero sicuramente ci saranno delle ripercussioni adesso io lavoro molto con i paesi dell'est ma soprattutto i russi che frequentano la mia zona sono russi che sono abitano in germania quindi diciamo che non sono al momento direttamente coinvolti però sì diciamo che dalla dall'inizio di gennaio febbraio c'era un certo entusiasmo anche dagli operatori turistici ho parlato con colleghi albergatori perché c'erano già delle agenzie che avevano ripreso i contatti per per portare anche i turisti veri e propri russi in romagna era stato riaperto un accordo con l'aeroporto di rimini proprio per delle tratte con con la russia chiaramente adesso è saltato tutto quindi è tutto da rivedere gli umori non sono proprio più sereni nel nel settore turistico sia per il discorso guerra che anche il discorso insomma degli incrementi delle delle degli italiani perché ricordiamo che anche il discorso benzina il benzina è soprattutto per gli operatori turistici balneari la spiaggia la la famiglia lo faceva volentieri anche una scappata in giornata dall'entroterra veniva al mare oppure dalla vicina bologna da ferrara che magari andavano più ai lidi e adesso bisogna vedere perché è un costo è un costo grosso il viaggio l'autostrada cioè rischiamo di perdere anche quella fetta di clientela di clienti che venivano a fare il fine settimana o semplicemente il sabato la domenica torneremo a parlare naturalmente di queste tematiche molto sentite torniamo a parlare intanto noi del PNRR dei fondi in arrivo sul territorio ferrarese abbiamo già insomma interpellato diversi comuni della provincia per capire su quali progetti si punterà maggiormente per far crescere la comunità e far ripartire quindi anche oltre la pandemia a questo punto anche oltre la guerra oggi andiamo a 100 dove come ci ha spiegato il sindaco Edoardo Accorsi non si punterà solo sulle scuole 100 vuole vincere la sfida del PNRR come vogliono fare tutte le altre città ci siamo già impegnati in questi pochi mesi su questo fronte abbiamo candidato diversi bandi per quanto diverse progettualità sui bandi aperti fino a pochi giorni fa sull'edilizia scolastica e chiaramente stiamo facendo di tutto per sfruttare al meglio questa opportunità perché riteniamo che sia per i territori strategica per i comuni sarà anche un grande impegno questo è bene dirlo perché da una parte è un'opportunità dall'altra abbiamo come amministratori la responsabilità di gestire queste risorse che speriamo arrivino e che sicuramente avranno un impatto importante sui nostri territori è anche un grande impegno nella misura in cui tutto il personale tecnico e non tecnico del nostro comune dovrà oltre che sull'ordinaria sulla cosiddetta ordinaria amministrazione concentrare le proprie forze anche sullo sfruttamento diciamo del PNRR queste prime progettualità che abbiamo presentato andavano e vanno nella direzione verso la quale come amministrazione abbiamo deciso di andare anche durante la campagna elettorale abbiamo per questo motivo in pochi mesi candidato sui bandi dell'edilizia scolastica la costruzione di un nuovo nido su una frazione di una scuola materna di una palestra anche questa sul capoluogo e il rifacimento totale di una scuola sulla frazione di casumaro una scuola primaria e secondaria di primo grado quindi la volontà è appunto quella di cercare di sfruttare questa grande opportunità in tutte diciamo in tutti i campi che il PNRR offre nelle disponibilità dei comuni cambiamo argomento e parliamo di cultura arte cinema sarà un percorso tra storia cinema pittura e fotografia il nuovo spazio dedicato alla memoria di Michelangelo Antonioni al padiglione di arte contemporanea vediamo i dettagli prosegue il percorso verso la creazione del nuovo spazio Michelangelo Antonioni al padiglione di arte contemporanea di Ferrara nei giorni scorsi a Roma si è fatto il punto sul progetto preliminare il curatore d'intesa con Vittorio Sgarbi Enrico Fico e l'amministrazione comunale di Ferrara è Dominique Paini già direttore della Cinémathèque Francese e curatore della mostra Antonioni e le arti ospitata a Palazzo Diamanti nel 2013 ed esportata a Parigi Bruxelles e Amsterdam lo spazio accoglierà aree con funzioni differenti adatte a diverse tipologie di pubblico e di ogni età tra piano terra e primo piano saranno posizionati allestimenti mobili e modulabili per realizzare di volta in volta diverse esposizioni in un dialogo con tutte le arti con cui si mise in relazione Antonioni non sarà rappresentata solo la storia del cinema ma anche la pittura la fotografia la letteratura saranno contenuti libri quadri corrispondenza sceneggiature appunti del regista una sezione sarà dedicata alle grandi donne del cinema come Lucia Bosè e Monica Vitti che ispirarono Antonioni altre a focus tematici il primo piano conterrà anche uno spazio polifunzionale per seminari convegni giornate di studio e proiezioni sarà qui presente anche un'area dedicata all'esplorazione da parte di Antonioni di mondi lontani dalla cultura e dalla civiltà latina il percorso procederà seguendo la carriera e l'arte di Antonioni e arrivando a Ferrara ora lo sport congratulazioni a Cristina Vecchio atleta dell'ASD format Ferrara nuova campionessa italiana nel getto del peso agli italiani indoor FISDIR così il sindaco di Ferrara Lanfabri dopo che l'atleta ferrarese con sindrome di Down ha conquistato l'oro di specialità agli italiani appunto agli indoor che si stanno svolgendo ad Ancona e si è giudicata il titolo italiano segnando la distanza di 5 metri e 43 centimetri questo risultato è la conferma del suo talento del suo impegno dell'altissimo livello qualitativo dello sport ferrarese ha detto il sindaco Fabri facendo i complimenti anche al presidente Alessandro Grande all'allenatore Andrea De Vivo e a tutto il team. Ora la spalla dopo la mara sconfita ieri pomeriggio allo stadio Mazza contro l'Ascoli al 45esimo minuto del secondo tempo sentiamo i commenti del dopo partita a partire dall'allenatore Roberto Venturato che sottolinea un fallo netto sul zanellato prima del gol della vittoria dell'Ascoli e anche di quello di Federico Melchiorri autore del gol della SPAL sentiamo. Molta delusione perché perché abbiamo fatto una buona partita abbiamo espresso un buon calcio secondo me abbiamo siamo imposti bene e però purtroppo non abbiamo portato a casa nessun punto questa è una cosa grave che bisogna assolutamente migliorare rimanere 90 minuti concentrati e riuscire a portare a casa almeno un punto oggi secondo me ce lo meritavamo bisognerà riguardarla ristudiarla e controllare tutti tutti gli errori gli errori fatti non solamente ovviamente non solo sui gol subiti sono sono certo che potevamo chiudere la partita prima potevamo fare dei gol davanti abbiamo fatto secondo me molti errori da assolutamente da non fare più o da migliorare se inizi ad attaccare di più non per forza non puoi prendere gol bisogna comunque stare concentrati 90 minuti non non diminuire appunto l'attenzione e se non si riesce a segnare non bisogna prendere gol e chiudere la partita con un pareggio abbiamo avuto tante occasioni soprattutto il primo tempo per poter fare gol e mettersi in una condizione di vantaggio abbiamo sbagliato molto negli ultimi 15 metri è un peccato perché abbiamo mantenuto comunque un certo tipo di equilibrio durante tutta la partita siamo riusciti a pareggiare abbiamo avuto anche l'occasione per fare gol è stata comunque una partita che ha creato situazioni favorevoli sia da una parte che dall'altra mi dispiace moltissimo perché comunque a dare continuità di risultato era importante e soprattutto mi pare almeno anche parlando con i ragazzi che il fallo su Zanellato era abbastanza evidente almeno da fuori mi è sembrato che ci fosse un fallo evidente non fischiato e questo un po' ci ha sicuramente penalizzato al di là poi della prodezza del calciatore dell'Ascoli però credo che questi falli a metà campo vanno fischiati e che sicuramente la partita poteva terminare in pareggio che forse era il risultato più giusto bene chiudiamo qua il nostro tv giornale naturalmente vi ricordo che in caso di mancata ricezione del nuovo canale di TeleSense ovvero il 19 c'è la necessità di risintonizzare chiudiamo qua il nostro tv giornale grazie di essere stati con noi arrivederci